buongiorno mister trovato e moscatelli ansa e volevo sapere com'è la situazione dei convocati allora gli indisponibili sono sturaro cassata crescito di agello e e più se sommato stamattina per in perché trovato perché è positivo al al tampone per cui si aggiunge anche lui oggi per in asintomatico adesso questa cosa cosa di parlare col dottore lui mi ha detto solo proprio durante l'allenamento che siccome era già a casa con un po di febbre per cui non non era insomma che la rottura di scatola è che appunto battia insomma non può essere della partita come l'hanno presa i compagni psicologicamente una cosa che vi ha colpito onestamente sono salito da l'ho saputo pochi minuti fa per cui non si sono allenati bene che dopo che l'hanno saputo hanno fatto il loro allenamento con serietà con spingendo per cui al di là di questo insomma poi adesso noi seguiremo tutti i protocolli che ci sono da seguire vedremo ripeto dobbiamo un po' anche l'organizzazione rivederla un po' in questi minuti quelli che verranno seguiti dopo la conferenza insomma una notizia che non ci voleva ovviamente in vista della trasferta di Napoli sono Giovanni Porcella primo canale intanto così si conosciamo squadra che vince non si tocca visto Napoli al di là di Perino ovviamente oppure ha in mente qualche cambiamento rispetto all'ultima prestazione positiva col Crotone visto l'arrivo anche di giocatori come Luca Pellegrini che è giocatore importante ma io come ogni settimana mi tengo anche le ultime ore tra l'altro poi mai come questa volta ne avremo bisogno di tutto il tempo necessario per poter decidere per cui non è assolutamente una regola fissa che squadra che vince non si cambia per cui valuterò fino alla fine quelle che sono tutte le opzioni incontriamo una grande squadra una squadra che ha cambiato pochissimo per cui tra le più rodate del campionato perché ha perso un giocatore e ne ha messo un altro di grandissima qualità facendo l'acquisto più importante della storia dal punto di vista diciamo di come spesa più importante della storia del Napoli per cui credo che incontriamo una delle squadre più scomode a incontrare ben allenata da un attore che stimo per cui so che insomma dovremmo essere al di là della formazione di chi scende in campo dovremmo fare una partita maiuscola una partita con grandissimo coraggio con la voglia di essere sempre fastidiosi portando in campo un'identità ben precisa e la dobbiamo fissare al di là delle difficoltà che avremo sicuramente in più rispetto all'ultima partita come portiere il secondo è Marchetti o Zima? Marchetti, confermato Marchetti, grazie buongiorno mister, Andrea Schiavapietra al secolo XIX parlavamo di Marchetti diciamo il fatto che non giochi una partita da due anni secondo lei può pesare? c'è una cosa che vi preoccupa? come l'avete visto? il fatto che un giocatore male come Federico non sia sesso in campo negli ultimi due anni mi interessa relativamente per come lo vedo allenarsi per cui anche stamattina ha fatto due interventi incredibili è un giocatore che ha un'applicazione quotidiana straordinaria per cui io ho grandissima fiducia in quello che farà Federico per cui il fatto che da molto tempo che non scende in campo deve essere uno stimolo, non un problema l'altra domanda mister è questa mai come è quest'anno mercato e campionato viaggiano contemporaneamente cioè c'è questa sovra posizione ancora per la prossima domenica a che punto siete e se è un qualcosa che condiziona un po' i giocatori che condiziona lei a me non è che mi condizioni ormai noi a dettagli lavori abbiamo imparato a convivere è ovvio che non è una situazione ottimale vorremmo aver già chiuso tutto quanto vorremmo lavorare con il nostro gruppo però ormai è una situazione al quale siamo abituati con la quale dobbiamo convivere e non dobbiamo farlo diventare un alibi io se da parte mia se mi metto a discutere su questo aspetto qua perdo solo del tempo devo essere invece concentrato sugli allenamenti sulle partite che andiamo a giocare su questa squadra che comunque su questi giocatori che si stanno impegnando veramente per diventare squadra il più in fretta possibile abbiamo un percorso lungo da fare perché il fatto che siamo partiti bene è sicuramente un buon segnale è una bellissima cosa perché ci dà la possibilità di lavorare con il morale giusto ma sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare perché c'è molto sul quale lavorare e se io mi metto a pensare ad altri aspetti perdo solo del tempo per cui concentriamoci sul lavoro quotidiano sulle partite che verranno di volta in volta e cercare di mostrare sempre di più il nostro miglioramento Ok, di mercato non vuole parlare però è un... Mi è già venuto dalla zanzara Sta arrivando lì Il nome di Bado, Telli, che gira tanto che impressione ne ha lei è una cosa di cui avete parlato o è un discorso così solo da giornalisti? Sarei un passo a mettermi in questo momento con una parte così importante con le problematiche non ultime, quella di Mattia veramente la mia testa deve pensare altrimenti faccio l'errore che ho di cui ho parlato un attimo fa devo parlare della squadra della nostra trasferta di una prestazione che va fatta il resto a me in questo momento mi interessa relativamente ripeto, farei un errore enorme se io andassi su altri discorsi gli altri discorsi li fanno chi di competenza io devo pensare alla squadra devo pensare a far arrivare questi ragazzi il meglio possibile a una gara molto difficile e siccome vogliamo arrivarci bene vogliamo mostrare un'identità ben precisa anche domani su un campo e contro una squadra ripeto, che in questo momento è tra le più forti del campionato perché per i motivi che dicevo prima concentriamoci su questo abbiamo bisogno veramente di tutte le energie di tutta la concentrazione necessaria di tutta l'applicazione di sacrificio la voglia il coraggio dobbiamo mostrare questo e siccome vogliamo far passi avanti e farli su un campo così difficile sarebbe un bel segnale noi andiamo alla ricerca di questi segnali Buongiorno Ministro Andrea Pira sotto mercato web allora le chiedo quanto è importante per un attaccante la fiducia del gol in questo caso destro che è ritornato in campo ha trovato la via della rete proprio contro Crottone come ha lavorato e ripeto quanto è importante la fiducia e il gol per la fiducia di un attaccante sicuramente è importante quando la settimana scorsa prima del gol prima della prestazione vi dicevo che Mattia stava lavorando in maniera molto seria e l'applicazione sua era probabilmente ha ritrovato questo piacere nell'andare nell'andare a conquistarsi qualcosa dirlo dopo dopo la prestazione mi diventa facile io questa cosa qua ve l'ho detto prima prima che scendesse in campo io credo che per un attaccante soprattutto il trovare il gol l'avere la fiducia ma non dell'allenatore la fiducia in generale anche in se stessi nei compagni che sentono che sei un giocatore che può rompere le palle agli altri per cui la cosa che mi auspico è che tutti i nostri attaccanti ma tutti i nostri giocatori sentano questa fiducia perché questo sarebbe il mio obiettivo riuscire a dare a tutti i componenti questa fiducia ma che non è mia è loro è qualcosa che si devono sentire a loro allora diventa una cosa importante buongiorno mister buongiorno volevo chiederle semplicemente adesso c'è un nuovo innesso della settimana scorsa che è Pellegrini se domani ci sarà la possibilità di vederlo dall'inizio magari appunto a sinistra con Zappa Costa dirottato a destra oppure se se l'ha già provato ecco insomma no 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 ma lui tra l'altro ha il vantaggio che determinati meccanismi li conosceva già essendo stato con me un anno e mezzo però voglio valutare anche in funzione appunto della sua condizione di quello che abbiamo su cui abbiamo lavorato siccome non è per non rispondere ma siccome anche loro come sarà sempre il mio modo di fare devono essere tutti pronti a giocare per cui Luca mi dà un'opzione in più da poter utilizzare sicuramente è un giocatore che con noi da poco deve sicuramente la sua condizione deve crescere però insomma ha già fatto una buona settimana Legandomi a quello che appena detto visto che il Napoli è squadra che ha questo tridente particolare può essere un'opzione ora al di là di chi gioca schierare invece rispetto a quella di Domenico una quattro o è meglio avere comunque due quinti come Zappacosta così che sono molto bravi anche a dare tra ma io credo che i numeri lasciano il tempo che trovano perché poi è nel 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 mettersi in campo e analizzare situazione per situazione che poi trovi l'efficacia di di affrontare una squadra in un modo o nell'altro perché non è non è i tre o i quattro o i cinque che possono che possono modificare poi l'atteggiamento di una squadra io credo che quando io dicevo bisogna far vedere una nostra identità anche a Napoli è perché questo al di là di tutto è crescita e noi al di là della partita che andremo a giocare noi dobbiamo essere bravi a dimostrare questa crescita attraverso quella nostra identità e sicuramente dovremmo essere bravi con alcuni accorgimenti perché poi incontriamo una squadra forte a mettere a mettere in campo quello che saranno diciamo il poter limitare un avversario così però sappiamo benissimo che non c'è squadra al mondo invincibile e noi dovremmo andare in campo con questo coraggio sapendo che che è sempre tutto nelle nostre mani domande? posso chiedere è passato praticamente un mese o poco più dal suo arrivo è come se la aspettava come sta andando il lavoro? è cosa? manca diciamo questo approccio con il Genoa con la dimensione Genoa il lavoro allora vi dico la verità perché poi tanto bleffare non servai quando sono arrivato mi sono ho trovato un ambiente un po' scarico un po' che si vedeva che erano due anni che soffriva un ambiente che soffriva molto e ripartire i primi giorni non è stato semplice onestamente non è stato semplice poi via via invece questo aspetto qua è uno degli aspetti che ha dato più slancio nel senso che ritrovare l'entusiasmo ritrovare la voglia di andare in campo divertirci a sudare a credere in qualcosa è la cosa che in queste ultime settimane ha dato un grandissimo slancio per cui quello che all'inizio sembrava una cosa negativa adesso sta diventando per cui di questo sono assolutamente felice e contento perché poi ovvio che poi dobbiamo mettere lavoro dobbiamo mettere ancora sudore dobbiamo mettere altri aspetti però rispetto ai primi giorni quando sono arrivato ho visto un cambiamento radicale da questo punto di vista a posto arrivederci a presto a presto a presto a presto Autore dei sovrapposti